Sul tema del contratto noi non abbiamo chiesto subito tutto, abbiamo detto si apre il tavolo, si apre il confronto, cosa c'è per quest'anno, cosa si può recuperare dentro la legge di stabilità e comunque se nel 2016, e cioè nella prossima stabilità, ci si fa carico anche di quest'anno oppure no, a questo la Ministra ha risposto che non aveva assolutamente le condizioni e anche sarebbe stato poco serio da parte sua e se prendersi impegni per la contrattazione diventa addirittura poco serio per la Ministra diventa complicato spiegare a un bel po' di milioni di persone che dopo sei anni parlare di loro contratto non è una cosa seria.